pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo giunti alla terza domenica chiamata la domenica ingaudete cioè la domenica della gioia davanti agli occhi abbiamo giovanni il battista nella prospettiva dell'evangelista giovanni dunque partiamo proprio da qui cioè cosa è la gioia cristiana perché un cristiano è gioioso è chiamato a essere gioioso anzitutto cosa la gioia non è non è la semplice euforia che può venire da un successo da una vittoria dalla squadra del cuore che segna può venire dall'essere brillo dall'essere su di giri e quant'altro non è neanche la semplice allegria che di persona è una cosa buona ma a volte cercate fine a se stessa può diventare anche superficiale banale se non è addirittura talvolta volgare oppure può essere anche una maschera o così un ruolo che ci diamo di quelli dei simpatici con i quali cerchiamo di approcciare agli altri non è neanche la felicità che già è qualcosa di più profondo di relazionale che nasce dal dono di se stessi dall'aprirsi all'altro la gioia è qualcosa di più profondo è qualcosa di divino san paolo ne parla come uno dei frutti dello spirito cioè la gioia è qualcosa che viene da dio che è la sorgente della gioia potremmo dire che una delle sue caratteristiche dio è gioia la parola gioia cara viene da caris che vuol dire dono grazia quindi la gioia da una parte è un dono di dio nasce dunque dalla relazione con lui ma appunto essendo anche un frutto dello spirito vuol dire che qualcosa che va coltivato che è anche frutto di un cammino il cristiano dove attinge la sua gioia non nel come gli vanno le cose ma nel profondo in una relazione aperta con dio che nulla ci può togliere se non il peccato ma poi la bellezza di poter ritornare a dio con tutto il cuore nella confessione quindi il cristiano è gioioso perché perché ha un rapporto aperto con dio perché affida la sua vita a dio e coltiva rapporto con lui e allora anche nelle sofferenze anche nelle prove nessuno mi può togliere quella gioia perché perché se il mio cuore è radicato e fondato in cristo nulla mi può separare da lui chiara luce badano sapete che era ragazza beata che giovanissima 18 anni scoprì di avere il tumore scrivendo a chiara lubic diceva che il suo corpo soffriva ma la sua anima cantava ecco vedete quella pace quella serenità quella gioia intima profonda che nasce da un rapporto che si coltiva col signore nella preghiera nei sacramenti nella meditazione della parola nella cura della vita spirituale lottando contro le nostre inclinazioni al male al peccato quindi in un cammino e dunque ascoltiamo cosa ci dice giovanni battista giovanni battista anzitutto ci viene presentato come testimone che non testimone se stesso ma rende testimonianza alla luce e giovanni battista ci invita come già abbiamo visto nel commento precedente raddrizzare la via del signore ad accoglierlo a disporci ad accoglierlo nella nostra vita ecco molto bella l'immagine della luce se leggiamo dice egli non era la luce ma doveva rendere testimonianza alla luce il prologo del vangelo di giovanni ci parla appunto del signore nei termini di luce la luce è ciò che permette la vita è la prima cosa che dio fece è un'immagine molto bella pensate al buio è un po' difficile che ci sia la vita il buio anzi l'immagine della tenebra del male della paura e la luce invece simbolo della chiarezza della gioia della vita ecco siamo chiamati a raccogliere la luce raccogliere il signore vangelo di giovanni ci parla di questo combattimento delle tenebre che non l'hanno voluta accogliere ma di una luce più potente comunque di queste tenebre noi a volte nel nostro cuore abbiamo un po' paura di accogliere la luce se uno ci pensa ma chi ha paura della luce la luce ti può far male soltanto se sei talmente abituato al buio che i tuoi occhi si devono abituare ma in termini esistenziali cosa ci dice ci dice che dio è luce e bellezza è vita ma ci sono delle zone del nostro cuore che a volte non vogliamo lasciare illuminare abbiamo delle zone ferite delle zone dove non vogliamo aprirci alla conversione delle zone che nascondiamo a dio e anche a chi in nome di dio ci potrebbe aiutare paradosso quasi preferiamo restare nelle tenebre piuttosto che aprirci alla luce aprirci alla vita ingannati dal tentatore pensiamo che dio venga a toglierci qualcosa che aprirmi a lui e mettermi in discussione mettermi in gioco possa privarmi di quanti giovani pensano che seguire dio sia una fregatura che viene a importi un sacco di limiti invece l'esatto opposto viene a tirar fuori la bellezza e a instradarti i suoi comandamenti le sue parole non sono gabbie ma semmai sono paletti che custodiscono la libertà e che ci insegnano ad amare nella verità dunque siamo invitati a raccogliere la luce giovanni battista rende testimonianza alla luce bellissima la parola testimone ecco la parola testimone con cui viene descritto spesso appunto giovanni in greco ha la stessa radice di martiro meglio il martire martir la martiuria in greco è la testimonianza ora nel nostro modo di intendere il testimone è colui che attesta un fatto che magari semplicemente ha visto quindi qualcosa con cui può essere d'accordo non d'accordo che vive esternamente invece nel mondo biblico anche nel nuovo testamento il martire è colui che non soltanto attesta un fatto ma ne è testimone per primo lo vive lo condivide e dunque ne diventa testimone ecco giovanni battista testimonia con la sua vita qualcun altro e questo è meraviglioso vedete giovanni battista questa bellezza vanno da lui e poteva vantarsi poteva mettersi al centro poteva dire sono io chi sei tu si definisce voce voce di uno che grida nel deserto lui è la voce altra è la parola lui è voce della parola lui testimonia qualcun altro un uomo libero vive per qualcun altro non vive col suo io al centro per il suo tornaconto quante volte le nostre relazioni persino quella con dio è fondata sul nostro benessere io prego per sentirmi bene io faccio le cose per avere qualcosa in contraccambio faccio qualcosa se l'altro mi dà e se non mi dà dopo una due tre arrivederci e grazie giovanni un uomo profondamente libero vive per qualcun altro noi dobbiamo imparare che ciò che conta non è stare al centro ma scoprire che siamo già al centro dell'amore di dio siamo profondamente amati quante volte cerchiamo il nostro valore negli altri ciò che gli altri pensano e dicono di noi nei nostri successi nell'esteriorità cos'è che cambia libera il cuore scoprirci amati scoprire che dio scommette su di noi che la nostra dignità il nostro valore infinito e pian piano testimoniare agli altri quest'amore che abbiamo incontrato nella nostra vita con le parole e con i gesti con l'amore veri e propri indicatori viventi che indicano qualcun altro perché nel mondo la gioia la cercano la gioia vera profonda la pace la cercano dio lo cercano hanno bisogno di chi lo indichi con la sua vita e con le sue parole essere piccoli giovanni battista missionari della gioia e giovanni battista parlando di gesù dice arriva qualcuno più forte di me a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo sta in mezzo a voi qualcuno che non conoscete e questo è un dilatare il cuore alla gioia giovanni battista non fa solo un atto di umiltà dicendo non sono degno di sciogliergli il legaccio dei sandali ma c'è ben di più nell'antico testamento il rapporto tra il popolo e dio era inteso nei termini di sposa con lo sposo qui giovanni sta dicendo lo sposo vero colui che viene a sposare la tua causa che porta pienezza la tua vita è qualcun altro qualcuno che sta in mezzo a voi non conoscete quello che abbiamo scoperto del signore è meraviglioso ma ancora è poco quello che abbiamo raggiunto adesso è ancora nulla rispetto a quello che dio vuol fare nelle nostre vite rispetto a quella pienezza che dio ha in mente che nessuno dunque si chiuda nel dire ormai io sono così sono arrivato so già tutto ho capito tutto no in mezzo a voi sta uno che non conoscete che è molto molto di più e che ci fa passare di gioia in gioia di pienezza in pienezza che guida le nostre vite verso una santità piena che bello vivere così sapendo che andiamo incontro al signore che viene che viene a portare a pienezza le nostre vite la cui provvidenza guida le nostre vite che la nostra vita non è in balia del nulla ma nelle mani del signore del nostro sposo di colui nelle braccia del quale possiamo riposare sicuri che dio vi benedica pace e bene a tutti benedica pace e bene a tutti Grazie a tutti